Buongiorno amici di Kikriki, buongiorno a tutti, buona giornata, anche oggi una bella giornata, Nunzio buongiorno a te. Si sentono gli uccellini, sì sì sì, e beh, anche se siamo in autunno, però i passerotti e i colombi, quelli stanno, cioè si sono abituati a qualsiasi temperatura, buongiorno. Allora, oggi non è una replica, Nunzio, assolutamente, non è una replica, no, ancora qualcuno, perché siamo nuova alla villetta di via Zanardelli, perché si sono sbagliati a mettere le puntate, la programmazione, hanno messo in nuova la puntata che c'era la CAC dei colombi, no, no, non è una replica, è una nuova puntata perché, giustamente, noi siamo, come dire, obiettivi, siamo Wish and Blonde e Maccheron, cioè non è che noi ci prefiggiamo a tutti i costi di denunciare le criticità urbane di Altamura e di Matera, assolutamente no, però, ah no, ma mica siamo, anche se qualcuno, diciamo, gli amministratori dicono che noi siamo diventati monellacci, non so perché, forse perché per essere bravi dobbiamo fare le puntate e dire che va tutto bene, madame la Marchese, va bene così, va bene, allora siamo bravi per gli amministratori. Se invece facciamo vedere la verità, fotografiamo la città così com'è, possiamo dare fastidio, come disturbiamo il manovratore. Comun, oggi, una puntata positiva, perché, giustamente, noi, quando facciamo le puntate di criticità urbane, tipo, non so se vi ricordate, Piazza Zanardelli, mi sa, un mesetto fa, più o meno, anunzio, grosso modo, l'inizio di ottobre, intorno alla prima quindicina di ottobre, avevamo fatto vedere, giustamente, abbiamo fotografato, senza Photoshop, avevamo ripreso la situazione di alcune panchine della villetta di Piazza Zanardelli. All'altro stanno andando le immagini, perché Annunzi adesso è bravo, mette quella in diretta e le immagini dei pertoni e potete vedere in che condizioni, passato remoto, si trovavano alcune panchine della villetta di Piazza Zanardelli, cioè praticamente scacazzate, non esisteva più la vernice, il ferro era sparito, erano completamente sommesse da escrementi di volatili che possono essere piccioni, sicuramente colombe, e forse qualche passerotto non andare via. Oltre alle panchine che erano praticamente antigieniche, proprio da provocare un'infezione seria, specialmente i bambini che frequentano questa villetta, anche l'astronato, quindi anche la pavimentazione, non era più grigia color cemento dei pavimenti, ma era praticamente color cacca di colombi. Adesso le immagini stanno sempre andando qui a lato e quindi questa è la prova, la dimostrazione che quella puntata che noi avevamo fatto qui, intorno alla prima quindicina di ottobre, nella villetta di Piazza Zanardelli, corrispondeva al vero. E adesso, a distanza di un mesetto, noi ce ne siamo accorti adesso che ci hanno mandato una segnalazione, però può darsi pure che l'avranno fatto dopo una settimana. Una mamma ci ha segnalato su Whatsapp, dice Emanuele, ti ricordi quella puntata che hai fatto a metà ottobre? La cacca dei colombi sulle panchine, condizioni antigieniche, bla 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 bla. Vai adesso e hanno pulito. Quindi noi adesso siamo sul posto, sullo stesso posto della puntata fatta precedentemente intorno alla prima metà di ottobre. Vi ricordate come stava questa panchina? Magari Nunzio, mentre sta andando la puntata della panchina pulita, puoi mettere a fianco, vedi, adesso sta mettendo Nunzio, com'erano le stesse panchine, com'erano la differenza prima e dopo la cura. Adesso ci si può tranquillamente sedere, anche la coppietta, i fidanzatini si possono dare il bacetto, gli anziani possono stare tranquillamente senza sporcarsi, che poi mi dicevano che gli anziani a volte non si... A volte a mettere i cartoni, però qualcuno non si accorgeva, poi si alzava e si trovava tutti i pantaloni pieni di cacca, poi andava a casa e la moglie mazzuta. Quindi adesso potete anche... Ah, vedi? Tranquille, specialmente oggi che c'è un venticello tiepido, si sta benissimo. Quindi, Nunzio, anche per quanto riguarda la pavimentazione, ti ricordi qua? C'era il macello, cioè praticamente da infezione seria, sapete come sono i bambini, giocano, cadono le cose a terra, si mettono le mani in bocca, quindi era anche un problema di igiene e sanità, quindi anche le ASL potevano essere, come dire, messe in wish and blonde e maccherone per risolvere questo problema. E' chiaro che hanno fatto la sanificazione, la disinfestazione, la pulizia efficace, complimenti, fatte veramente bene, però diciamo che il problema non è stato risolto alla radice, hanno soltanto limitato i danni, perché comunque i colombi ci sono, comunque vanno sui rami e quindi nidificano e fanno comunque altre cacche. Gli alberi sono stati anche un po' potati e quindi qua l'unica cosa da fare, l'unica cosa da fare, io ho parlato con un perito forestale e mi ha detto in questo periodo, anche fino a gennaio, febbraio, si può fare la capitozzatura, che non è una parolaccia. La capitozzatura praticamente consiste nel tagliare i rami e far stare soltanto le cime, diciamo, più importanti dell'albero, in modo che in questo periodo i colombi vanno a nidificare o vanno a posarsi altrove. Quindi diciamo che il problema si risolve in questa villa e magari poi vanno a scacazzare a un'altra parte. Però, diciamo, in questa situazione forse è meglio che vanno via da qui, vabbè anche queste altre panchine, stiamo dicendo che è meglio che vanno via da qua, perché questa è una villetta molto frequentata da bambini e anziani. Anche qua ti ricordi? Sporchissima, non so se ti ricordi, qua l'avranno usato l'idropulitrice, pulitissimo. Quindi diciamo che questa volta siamo stati efficaci, cioè questa volta la puntata ha colto nel segno e quindi i nostri amministratori consapevoli della situazione hanno provveduto in maniera solerte, in maniera anche efficace, alla pulizia e sanificazione, disinfestazione di questo ambiente, questo luogo che... vedi il colombino, vedi il colombino, vedi, vedi il colombino, vedi, vedi, sono esseri, come dici, sono animali, bisogna rispettarli, però noi dobbiamo rispettare noi, cioè noi dobbiamo rispettare loro e loro... Se ne giù, se ne vola, se ne vola, vabbè, non lo possiamo... Ah no, si è andata dall'altra parte, sono furbi i colombini. Allora, fatemi concludere questa puntata dicendo che quando ci sono delle positività, delle situazioni positive, il nostro programma interviene comunque, non soltanto le criticità. Diciamo che il nostro format della trasmissione è quello di esaminare le criticità della città in maniera satirica, in maniera scherzosa, un po' stravagante, un po' scansonata, però è chiaro che il momento in cui ci sono dei problemi che sono stati risolti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico, noi siamo i primi a riscontrarli, a evidenziarli e perché no a fare una puntata proprio su questa cosa che hanno fatto. Come abbiamo fatto oggi, Nunzio, per quanto riguarda la disinfestazione, sanificazione e pulizia delle panchine e della pavimentazione della villetta di piazza Zanardella. Vabbè, ringraziamo gli amministratori comunali per aver fatto il loro dovere. Quindi bisogna ringraziare. Quando uno fa il proprio dovere, perché no, bisogna anche ringraziarlo. E noi l'abbiamo fatto tranquillamente. Vabbè, Nunzio, io mi auguro che questa sia una... Ah sì, io non sono un urbanista, non sono un geometra, non sono... Però io credo, forse chiediamo molto, adesso la sindaca dirà Emma, Giordano, Mono vuoi assa, però oltre alla capitozzatura degli alberi, per far sì che poi i colombi vadano da un'altra parte, un modesto consiglio nostro, queste panchine critiche, perché non è che vanno a scacazzare a tutte le panchine, soltanto alcune, dipende forse dagli alberi, magari posizionarle, spostarle da un'altra parte. Tipo un'idea che mi è venuta, perché no, siccome questi sono dei sempreverdi e quindi difficilmente qua vanno i colombi, mettere alcune panchine critiche anche in questa zona qui, in quell'altra zona lì, cioè cercare di spostarle per evitare che poi periodicamente siete costretti a pulire con la pulivapor e quindi spostando le panchine, una volta dovete fare la spesa, però risolvete poi il problema in maniera definitiva. Nunzio, ce ne vogliamo andare che dobbiamo andare a mangiare? Amici, grazie di tutto, Nunzio, grazie per la tua consulenza, qui stanno gridando e vabbè, ci sono, diciamo, oggi ci sarà forse uno shop degli studenti, che dì? Gridano, ah, sono proprio così ad Altamur, vabbè, ok, per oggi è tutto, amici di Kikik, e Sardwebu.